E dall'altra parte l'ingresso della città, purtroppo dopo le cariche parte della gente è andata via, siamo rimasti la metà, allora io dico adesso, dopo il dato di vittoria che abbiamo ottenuto, dopo che abbiamo dimostrato ancora una volta, cosa significa la democrazia in Italia, con le cariche della polizia, di fronte a studenti disarmati. Allora dico adesso, torniamo indietro, raggiungiamo gli altri studenti, i ricercatori che saranno ancora occupando la fregola, così andiamo a crocare la città.